Buonasera, siamo qui per presentare questo libro di Giacomo Caruso sulle rovine di Cartagine e un libro diciamo illustrato da un'opera, da un quadro di Marcello Clementi, Iuno Marcello Clementi e corredato anche da un gadget ideato in sintonia appunto con Marcello e questa tazza che riprende appunto l'immagine poi della copertina e quindi una tazza diciamo bere un tè con le rovine di Cartagine e leggere una buona poesia infatti, come gustare un tè. Ora questo libro sulle rovine di Cartagine ha un sottotitolo Poesie resistenti, poesie resistenti ci dice già che queste poesie riguardano i tempi attuali, quindi sono poesie calate nella storia che viviamo quotidianamente tutti i giorni e io ho detto nell'introduzione una poesia che si rifà a un tipo di poesia civile perché affronta diciamo molte tematiche anche da un punto di vista dell'invettiva quindi prendendo di petto quelle che sono diciamo le problematiche contemporanee e poi risolvendole però sempre in un senso positivo, quindi non è un libro diciamo di lamentazione o di polemica soltanto sui tempi che viviamo, sul nostro male quotidiano ma è un libro che partendo dalle rovine quasi come poi lui mette anche a manifesto in questa poesia che si intitola Resistenza nell'ultima pagina nella quarta di Covertina, è un libro che vuole risolvere in parte anche questa brutalità diciamo che ci assalta in un certo senso, ecco sulle rovine la parola già rovine è una parola molto novecentesca, è una parola che ci riporta al discorso di Elliot il quale voleva puntellare i suoi versi proprio sulle rovine del novecento, ora diciamo in questa agonia lunga e senza fine che si portrae all'infinito che è questo nostro tempo, le rovine, i detriti, le scorie e appunto le rovine si sono trasformate in scorie e in detriti, non sono più riciclabili, i rifiuti cominciamo ad avere la difficoltà del riciclaggio dei rifiuti, quindi diciamo i problemi cominciano a vintasare questa nostra stagnazione spirituale, diciamo così tempi anche di stagnazione spirituali e quindi ecco il poeta calato in questa tonalità emotiva per usare diciamo un concetto che era di uno dei massimi filosofi del novecento, forse oggi troppo citato, Heidegger, però per stando in questa tonalità emotiva respirando questa tonalità emotiva della storia che vive non può che scrivere appunto un libro con un titolo come sulle rovine, però per cartagine e se è vero che questa raccolta ha avuto una genesi appunto e una gestazione abbastanza lunghe e anche un tempo di revisione molto lunghe. Sicuramente sì, allora ti rispondo prima alla seconda domanda, sicuramente in questa poesia ci sono almeno 3-4 anni, in questo libro ci sono almeno 3-4 anni di poesia e di laboratorio chiaramente, perché comunque io non scendo, non posso scendere il mio scrivere dal lavoro che facciamo nel laboratorio di scrittura poetica, perché io ritengo che se non avessi lo stimolo del laboratorio, ma scriverei un terzo forse delle poesie che scrivo, quindi il laboratorio mi serve di confronto con ottimi amici e poeti, di stimolo per la mia scrittura e quindi è come dire l'humus dal quale tutto questo nasce e quindi chiaramente non ci sono solo le poesie dell'ultimo anno di laboratorio, ma ci sono quelle degli ultimi 3-4 anni. Perché sulle rovine di cartagine? Perché? Perché? Allora, parte il mito, la riscrittura del mito è comunque una delle mie particolarità, esatto, mi piace il fatto del classico, ahimè, negli anni 70, quindi comunque avevo un professore di latino e greco molto esigente, che però è riuscito a farmi innamorare definitivamente, diciamo così, dell'antichità, quindi dell'antica Roma, dell'antica Grecia, Ilia, del Podissea, Deneide. Da questo chiaramente, infatti c'è una poesia dedicata ad Enea e una dedicata a Didone. E Didone piange, piange, in realtà non piange comunque, già immagina le rovine di cartagine, che lei già sa che andato via da Enea, di lì a qualche secolo, cartagine cesserà di esistere. Io vi volevo riportare a un'immagine emblematica, secondo me, che è quella della leggenda del pianista sull'oceano ritornatore. Se qualcuno di voi ricorda, l'immagine, finalmente, dopo tanto tempo di permanenza suonando all'interno di questo antro, che a me piace immaginare sotto il termine di placenta, era la nave che attraversava, andava e riandava da una parte e dall'altra, che stava agli oceani, eccetera, eccetera, e il protagonista sopravviveva in questo ambiente solamente suonando, senza nessun contatto con la realtà esterna. Quindi era un ritorno alla placenta materna, era un ritorno alle acque materne, in qualche modo, nelle quali rivevevano. Ecco, sulle navide di cartagine, per me, potrebbe anche rappresentare uno degli aspetti, questo tipo di intenzione, che però tu risolvi in maniera diversa. Nel momento in cui il protagonista di quei fotografi, in qualche modo, ha il cappello in testa, il cappotto, e sta per scendere, i gradini della scaletta sul porto, eccetera, eccetera, alza agli occhi e ha un attimo di esitazione e di sospensione dello sguardo. Ciò che appare a lui è la città complessiva, cioè i grattacieli, la nebbia, cioè tutto quello che noi possiamo immaginare di una metropoli che si governa attraverso il filtro di quella fantasia che lui in qualche modo aveva rifiutato e che adesso si trova di conto che in qualche modo non solo fa sospendere gli occhi, ma lo costringe a risalire, a ritornare indietro.